Ciao, sono Naip. Non me lo faccio più. Ciao, sono Naip e non sono qui per fare il cazzone, ma sono qui per raccontarvi come sta andando. C'è un sole splendido e c'è un getto brutto. C'è brutto, disfatto. Però va bene così, è attestato di verità. Come sta andando? Sta andando molto bene. Le artist proposition sono state il primo atto di qualcosa di positivo che è iniziato, cioè un'intesa tra me e Takedo e Mika, e anche tra me e Bha e Vergo. Cioè è stato l'inizio di una condivisione che in questo momento mi fa sentire all'interno di una squadra o di una famiglia addirittura. Mi sono sentito sin da subito compreso e non è mai scontato che si tratti del mio progetto, cioè di un progetto come il mio o di un progetto classico. Mi sono sentito subito rispettato e ascoltato. E mi sono arrivati tanti consigli e tante cose, come dire, su cui migliorare, su cui poter dare di più, che fanno sempre parte, come dire, del mio discorso, però possono essere fatte meglio, che siano dettagli o che siano invece cose un po' più grosse, un po' più importanti. Da un punto di vista musicale, narrativo, sono, come dire, ho da subito avuto tanti pollici in su. E quindi mi hanno preso per mano, mi hanno preso per mano e mi hanno invitato a migliorare. E sto cercando di farlo lavorando in maniera serrata e al contempo con entusiasmo. Sto imparando tantissime cose, anche quando siamo entrati in sala prove, quindi un po' il momento focale, la prova del nove. Lì c'è stato anche un, come dire, rifinire molte cose che fanno parte della performance. E con gli altri, cioè con Vergo e Edda, ci sentiamo, scambiamo molte paure, cioè c'è un confronto su delle perplessità, su delle paure, ci cerchiamo anche di far forza, di farci forza all'un l'altro. Però, che dire, mi sento molto a mio agio e anche molto entusiasta, e anche abbastanza contento e soddisfatto. E c'ho un fuoco acceso dentro perché sento che si può fare ancora meglio, che può essere fatto un ulteriore passo e poi ancora un altro. e io posso imparare ancora di più. E questa è una delle sensazioni più fiche che io possa dire, di sentire. Mi sento in potenza, mi sento in potenza di migliorare. Non è più una supposizione, sta diventando un fatto, una quotidianità, un'abitudine. Ed è molto bello. Spero quindi di riuscire a fare tutto quello che ho fatto in maniera giusta, senza mai, come dire, con l'umiltà che è fondamentale mettere in gioco, senza la quale non si può mai dire ho sbagliato, e quindi non si può mai dire imparo. Ed è bello come Taketo, che è uno dei più grandi produttori che ci sono in Italia ad oggi, e anche Mika, che è una delle più grandi pop star contemporanee, mi facciano sentire al loro livello. E di questo io sono onorato in maniera veramente indicibile. È davvero emozionante sentirsi alla pari di personalità così alte. E posso dire anche che mi sento fortunatissimo di far parte di questa cosa, cioè di X-Factor. Proprio quest'anno riesco a percepire una fortuna che secondo me non sarebbe mai accaduta in altri anni. Cioè far parte di X-Factor quest'anno vuol dire essere una specie di miracolato. Sono protetto da questa enorme famiglia che è X-Factor in questo momento difficilissimo che sta vivendo il paese dove noi di fatto siamo gli unici a proporre musica dal vivo. Dal vivo, perché alla fine sono dei cazzo di live. E questo è un privilegio. È un privilegio incommentabile. Incommentabile perché mi sento molto vicino a ciò che accade là fuori. Spero che le cose là fuori possano andare meglio perché sennò è tutto strettamente legato. Spero che le cose là fuori.